Signore, sia lodato. Siamo grati a Dio per tutta la sua benignità. Certamente Egli anche stasera continuerà a benedirci, perché qui siamo all'ombra delle ali del Signore e Lui è pronto a spandere lo Spirito Suo sopra noi, perciò i nostri cuori siano aperti. Signore, noi Ti ringraziamo per tutta la Tua benignità, Ti ringraziamo per il Tuo immesso amore e Ti preghiamo che stasera ancora una volta Tu voglia continuare a operare nella nostra vita, a confermare la Tua parola con la Tua presenza, le Tue benedizioni, con tutto quello che Tu fai per mezzo dello Spirito Tuo e della Tua parola. Rimani con noi e fa che Gesù sia glorificato in mezzo a noi e noi ti diamo la lote e la gloria nel nome Suo, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo insieme alla gloria del Signore l'inno 377. Uniti in dolce e vicolo, di te gli spermi amore, ai Santi che triunfano nel regno tuo, Signore, che a quanti te adoriano, eterna eredità. Noi qui racconti insieme, l'amor di fedi spene, e gli attributi appongerai, all'alta tua bontà. gloria del Signore. Se che il tuo celeste Gesù Cristo, a vorrei darci vieta. Lo sc erkoria e desconfiere, gloria del piede del super Stelle che di questo modulo La tua vita, Gesù la tua vittoria, la nostra invenità, che toglici l'avvento, qualsiasi in puro ammetto, la tua parola illumini la nostra cenicità, la fede in noi fortifica e la speranza viva, la carità sia perdita, sia vite sia giudita, perché siamo tutti un animi ed un sol cuore in te, nel nome tuo racconti sappiamo che tu ci ascolti e in mezzo a tuoi coltivichi i frutti della fede. Leggiamo la parola del Signore nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, dal versetto 39. E uno dei malfattori lo ingiuriava dicendo «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro rispondendo lo rimproverava dicendo «Non hai tu nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nello stesso supplizio!» E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male. e diceva «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse «Io ti dico, in verità, che oggi tu sarai con me in Paradiso». La scena descritta in questo passo del Vangelo penso che è conosciuta anche da chi non è uso leggere i Vangeli. Vangeli che non indugiano in penose descrizioni delle sofferenze del nostro Signore Gesù in croce. Vangeli che non sono ricchi di particolari e di particolari magari un po' scabrosi rispetto alle sofferenze del Signore Gesù. Questo compito se lo sono assunto i pittori, gli artisti, ultimamente forse anche qualche regista. Il compito di descrivere in modo spesso esagerato ed orrido le sofferenze del Salvatore. Ma i Vangeli no, perché scopo dei Vangeli era ed è quello di non farci perdere di vista la sostanza delle cose, e cioè il motivo per il quale Gesù ha sofferto, è morto ed è risorto. Cosicché Paolo poteva scrivere che egli ha riconciliato con sé tutte le cose avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Lo scopo dunque non era quello di commuovere né quello di impietosire, ma lo scopo dell'opera del nostro Signore Gesù è stato quello unico solo di farci fare pace con Dio. E' anche vero, fratelli, che la figura del malfattore o del ladrone impropriamente detto buono ci aiuta stasera, ci aiuta perché è un ottimo esempio, più che un esempio è una realtà, che illustra quanto sia stata profonda, potente, e portentosa l'opera del nostro Signore Gesù. C'è un versetto che sicuramente riassume la crocifissione, la passione del nostro Signore Gesù, laddove Paolo scrive nella prima epistola ai Corinzi, noi predichiamo Cristo crocifisso. E dopo aggiunge, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. E poi aggiunge, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E verrebbe da chiedere, dinanzi alle parole che abbiamo letto nel Vangelo, dove è la potenza di Dio e dove è la forza di Dio. Perché ci viene descritto il figliuolo di Dio, inchiodato in croce, debole, morente, poi moribondo e poi che muore. Ci viene descritto il figliuolo di Dio, oggetto dello scherno, dell'insulto. Dov'è la forza? Dov'è la potenza? Dov'è la saggezza? Ripeto, la figura del malfattore è un formidabile aiuto per cogliere invece proprio lì tutta la potenza e la sapienza di Dio. E provo a spiegare stasera il perché di queste mie affermazioni. Innanzitutto, noi cogliamo la potenza e la sapienza di Dio nell'opera che Cristo ha compiuto in croce, nella sua infinita compassione verso il ladrone e verso tutti gli uomini. Difatti, Cristo è accanto ai malfattori nel momento estremo. E verrebbe da pensare se non sia stato voluto quell'incontro, perché qualche capitolo primo, se preferite qualche settimana prima, Gesù aveva detto ai Suoi, citando un'antica profezia, io vi dico che queste cose stanno per adempiersi. E si adempirà questo versetto, disse Gesù ai discepoli. Egli è stato annoverato fra i malfattori e le cose che si riferiscono a me, aggiunse Gesù, stanno per compiersi. Questa frase la disse settimane prima di trovarsi in croce in mezzo ai due malfattori. E questa frase era stata profetizzata centinaia di anni prima. La troverete nell'Antico Testamento. Mi viene da pensare se quell'incontro, nel momento estremo della morte, non sia stato prestabilito nell'eternità e non sia stato voluto. E mi viene dunque da pensare quanto il nostro Signore Gesù è compassionevole verso gli uomini, anche verso gli ultimi, a tal punto che a quattro passi dall'imbocco della porta della morte non si è tirato indietro dall'aiutare due malfattori. La compassione del nostro Signore Gesù e il ladrone, in questo è un grande esempio, si diffonde verso tutti gli uomini. Non c'è ostacolo, non c'è morte fisica, non c'è disperazione che possano separarci dall'amore di Dio. Lo guardo lì, lo guardiamo lì il nostro Salvatore. Lo troviamo lì accanto ai due malfattori e in mezzo, uno a destra e l'altro a sinistra, equidistante dai due. Uno lo accetterà, l'altro lo rifiuterà. Cristo oggi è equidistante da tutti noi, da chi non ascolta, da chi rifiuta, da chi insulta, di chi cerca, da chi prega. Egli è accanto a tutti gli uomini. Ma è lì nel momento estremo, è il momento della morte, è il momento nel quale non si può più rimediare. I due malfattori sono lì perché se lo meritano e lo riconoscono. Non possono scendere dalla croce e non possono rimediare ad una vita sbagliata, non possono rimediare alle scelte che hanno fatto prima, non possono, ormai non si può più. Si trovano su un'autostrada nella quale non si può fare inversione di marcia. Corrono verso l'ultimo estremo sospiro, ma non possono mutare più il loro passato. Stanno tirando la somma della loro vita e non ci possono fare nulla. Si trovano nella condizione di chi anche non può più rimediare, non è più messo in condizione di rimediare. Sono condannati, condannati a morte. Non esiste grazia, non esiste firma del Presidente della Repubblica, non esiste Cassazione che tenga, non c'è più nulla. È stabilito, è così, ormai è questione di ore. Ma quando la nostra vita e i nostri errori ci inchiodano in situazioni estreme, quando i nostri errori ci inchiodano e ci ritroviamo in condizioni nelle quali non possiamo più né rimediare né tornare indietro, c'è qualcuno che non ci lascia soli. Noi sappiamo che colui che è morto ed risorto è lì accanto a noi. Anche quando io attraversassi e passassi per la valle dell'ombra della morte, e in quel momento erano in tre in quella valle, quando io fossi nella valle dell'ombra della morte, tu sei con me. E queste parole furono scritte dal re pastore, dal re Davide, ma ora accanto al ladrone c'è il re del re pastore, c'è Gesù che ha detto io sono il buon pastore. Lo guardiamo ed è lì vicino a colui che è al passo estremo, colui che è solo, e si trova a quattro passi, dicevo, dalla morte, al momento estremo, nel quale i legami angosciosi legano, il momento nel quale anche i più forti si piegano, il momento nel quale ormai non c'è più rimedio, non c'è più nulla da fare, non c'è gomma che cancelli e non c'è aiuto che sorregga, il momento nel quale anche la più forte fra le catene non può più ritirare indietro, il momento nel quale gli anni trascorsi non si possono riscrivere e la vita che è passata non la si può rivivere, però lì, in quel momento, vicino al peggiore degli uomini, il migliore fra gli uomini, non si è tirato indietro. Voi dite, chi non crede afferma, dove è la forza di Dio? Io vi dico che in quel momento noi vediamo tutta la forza del nostro Signore, forza di compassione, forza che non disprezza, forza che afferra. E lì, all'imbocco delle porte dell'Hades, il Signore della vita ha avuto l'ultima, grande, meravigliosa vittoria del suo ministerio terreno, la prima, grande, meravigliosa vittoria del suo ministerio eterno. Noi stasera possiamo guardare al nostro Signore Gesù, non piangendo, noi legna secca per il legno verde, ma possiamo guardare a Lui sapendo innanzitutto questo, che Egli è vicino nei casi estremi, nei momenti più difficili e accanto agli uomini. Dicevo che il malfattore non meritava sicuramente nulla, figuratevi, era colpevole e lo ammetteva. Martedì stiamo facendo una serie di studi biblici che riguardano l'amore e la compassione del Signore Gesù verso gli ultimi della società, verso i diseredati, è più ultimo di questo. Abbiamo parlato dei poveri, abbiamo parlato della peccatrice, abbiamo parlato di Maria Maddalena dalla quale uscirono siete demoni. E quest'uomo? Cristo è accanto a Lui. Senza parole, Lui è lì. È scritto in ebrei e per questo motivo Egli può simpatizzare con noi uomini, qualunque siano i legami che avvolgono il nostro cuore. E può essere che c'è, sapete, c'è una forma di morte, di angoscia, che non è quella della morte fisica, ma di una sorta di morte spirituale, chiamate la depressione, chiamate l'abbattimento, chiamate lo scoraggiamento, eppure noi sappiamo che è scritto nella parola di Dio, in questo vediamo la sua meravigliosa forza, il Signore è accanto a tutti gli uomini. In questo vediamo la sua forza, non la sua debolezza. Poiché la debolezza, abbiamo letto che la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Gli dicevano se tu sei Dio, veramente, facci vedere quanto sei forte, scendi giù di croce. E Gesù non è sceso dalla croce, ci è voluta più forza nel non scendere dalla croce che nel contrario. Gli dicevano se tu sei figlio di Dio, chiama gli angeli. Non ha chiamato gli angeli, solo è stato accanto al ladrone. Fratelli, nel momento nel quale noi incontreremo il Signore faccia a faccia, forse saremo soli, ma Dio voglia che accanto a noi ci sia Gesù. Alleluia! Ma c'è un secondo aspetto nel quale noi vediamo perfetta la forza del nostro Signore, e la vediamo, vediamo la debolezza cosiddetta di Dio più forte degli uomini. È nella conversione del ladrone, conversione al Salvatore. Chi l'avrebbe detto? Era spacciato, era finito, era giudicato. Chi l'avrebbe detto che un uomo si potesse convertire in quelle condizioni, e in quel momento avere... Vedete, mi parlate di Pietro, era forte, era giovane, aveva una vita di nanzi. Mi parlate di Zaccheo, il tizio che salì sull'albero, anche lui non so se era giovane, ma era forte, sicuramente abbastanza da rimpicarsi su un albero. Mi parlate delle donne, mi parlate dei discepoli, mi parlate di uomini e donne che comunque erano in salute in qualche modo. E chi non lo era, non era certo inchiodato su una croce, ma qui stiamo parlando di un malfattore. Stiamo parlando di uno che pochi minuti prima bestemmiava e urlava sulla croce insieme al compare, perché tutti e due dicevano a Gesù se tu sei il figliuolo di Dio. Mi state parlando di uno che ormai era spacciato ed era convinto di essere spacciato. sotto la croce c'erano soltanto Maria e qualche altra donna, i Giovanni, per il Signore Gesù, ma per gli altri due chi c'erano? Non dice la parola di Dio che c'erano dei parenti e non mi meraviglierei se non c'erano i parenti, non mi meraviglierei neppure se non c'era nessuno per loro, perché erano i peggiori, perché erano la feccia della società. Che speranza per loro? Quale volantino da dargli? Che parola? Niente, niente. Quando c'è la disperazione più cupa, Cristo Gesù è la porta della speranza. Lascia perdere quello che gli altri ti dicono e lascia stare la diagnosi che tu stessa ti sei fatta o che tu stesso ti sei fatto. Guardando a quest'opera noi diciamo a noi stessi, grazie Signore, perché tu sei il medico che rianima, perché tu sei l'aiuto nel momento estremo, perché, come diceva il salmista, quando i legami della morte mi hanno circondato e quando le porte dell'Hades mi stavano inghiottendo, io ho gridato a te e tu hai ascoltato la mia preghiera. Alleluia! Certo, la storia fu un po' combattuta. Scrive Luca che due altri malfattori erano condotti con Gesù per farlo morire. Il cammino inizia da prima, quando gli mettono addosso il cosiddetto patibolo, lo chiamavano così i latini, era il braccio trasversale della croce, glielo mettevano addosso così e lo dovevano trasportare. E lì, sul luogo del supplizio, trovavano invece l'altro, il braccio verticale della cosiddetta croce e dovevano portarlo. Uscirono dal, chiamiamolo tribunale, insieme, tutte e tre e fecero il cammino, quella che viene chiamata oggi la via dolorosa, fecero il cammino insieme. Poi, ahimè, il supplizio e quando furono giunti al luogo furono crocifissi, uno a destra e l'altro a sinistra. E dopo poco i due, tutte e due, insultavano Gesù. Quando uscirono non lo capirono, quando camminarono con lui non lo riconobbero, nel momento del dolore più vivo bestemmiarono, eppure uno di loro due fu salvato. Non ci interessa qual è il tuo stato. Una cosa è vera, che c'è sempre speranza in Cristo Gesù. Ebbene, ad un tratto uno dei due ci ripensa. Non sappiamo perché, non sappiamo per quale motivo. Una cosa è certa, uno dei due ci ripensa e improvvisamente esplode verso l'altro. Voi pensate, nel dolore riescono a conversare e a parlare, ma soprattutto nel dolore intenso Cristo continua a ricordarsi di loro. E l'ultimo gesto. Noi diremmo che quel cuore divino che batte d'amore, noi diremmo che quel Dio meraviglioso dal quale usciva virtù che guariva ormai era inaridito, ormai era spento, ormai era morto. Noi diremmo che quel legno ormai era spezzato. E invece non è così. Non è così. Non è così. Perché la debolezza di Dio è più forte degli uomini. C'era ancora nel Signore sufficiente potenza e sufficiente gloria per trarre quell'uomo a salvezza. Oggi Dio non si è inaridito. C'è sufficiente gloria e sufficiente potenza in Cristo per poterti salvare, guarire, aiutare, risollevare, fortificare, consolare stasera. E così accade. Noi diremmo che sta soffrendo troppo Gesù. Non gli può dare retta. E se gli risponde malamente avrà pure ragione. Ora deve pensare a se stesso. Ora deve pensare alle sue sofferenze. Ma non è vero. Disse Gesù, se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto. E quale frutto meraviglioso stava portando Gesù. E dopo quel frutto ha portato ognuno di noi come frutto. Ebbene, incomincia a parlare e fa una bella ammissione. È vero, noi meritiamo ciò che stiamo soffrendo. Ma Lui, Lui no. Non vi sembra strana questa preghiera? Bella, ma a me alle volte pare di sentire diversamente. Preghiere che dicono all'incirca Signore, io non merito tutto questo. Signore, io non ho fatto nulla di male. Preghiere che dicono Signore, sono gli altri cattivi. E perché gli altri sono cattivi io sono diventato cattivo. Oppure preghiera del tipo, Signore dammi tanta gioia, Signore dammi tanta pace. Se Dio avesse, se chiedo scusa, il ladrone avesse fatto questa preghiera e il Signor Gesù avesse risposta a questa preghiera sarebbe morto, contento e felice di andare all'inferno. La preghiera era, Signore, non ti chiedo di star meglio, non ti chiedo più di scendere da questa croce, ti chiedo di non lasciarmi mai più in eterno. Dove sarai tu, Signore? Voglio venire anch'io. Ti vedo sicuro affrontare questo momento. Vedo il tuo passo sicuro, il tuo volto sereno nonostante tutto il dolore. Io sento quello che tu dici. Io ti ho sentito, sai. Ah, io ti ho sentito mentre dicevi a Giovanni questa è tua madre e a Maria questo è tuo figliolo. Io ho sentito le parole che hai rivolto di perdono. L'ho sentito che mentre noi urlavamo tu dicevi padre perdona, non sanno quello che fanno. T'ho sentito, sai. Io dico che in quelle parole c'è qualcosa che io non ho mai sentito in nessun altro. Io ti dico che in quello che vedo, vedo ciò che non ho mai udito. Allora è vero, tu sei un re, perché non hai una corona sul capo, ma il tuo capo è come il capo di un re. Perché non sei vestito come un re, ma il tuo cuore è il cuore di un re. Perché tu, signore, è una parola autorevole, allora ti dico io ho sbagliato. Io lo merito di stare qua, ma tu no. Questo si chiama ravvedimento. Fin quanto tu pensi di meritare tutto da parte di Dio e di essere il migliore sulla terra, tu non otterrai perdono da Dio. Fin quanto io sono convinto di essere buono, bravo, una povera vittima delle circostanze, sarò sempre un brontolone insoddisfatto, ma soprattutto non otterrò il perdono dei miei peccati. Ma quando tu ed io sapremo dire, signore, è vero, noi non meritiamo nulla. E tu sei giusto. E fin quando sapremo aggiungere, dove tu sarai, io voglio stare con te, allora verrà la remissione, il perdono dei nostri peccati. In questo noi vediamo la potenza del nostro Signore. Ha convertito un uomo, ha salvato un uomo pochi secondi prima della morte, nonostante lui stesse soffrendo. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. C'è un'ultima cosa nella quale noi vediamo la perfetta forza del nostro Signore, la comunione. Oltre alla compassione verso il ladrone, alla conversione del ladrone, la comunione con il ladrone, è l'aspetto più forte. I due stanno per essere fisicamente separati. Eppure guardate che comunione salda. Oltre la debolezza fisica, oltre il dolore, Gesù dice oggi tu sarai con me in paradiso. Passeremo insieme le porte e io ti prenderò per mano. E le porte del terrore per gli uomini saranno per te le porte della vittoria. È scritto in ebrei che Gesù è comparso per mezzo del suo sacrificio, ha presentato il suo sangue al Padre nel santuario del cielo. Ma sarà accaduto che quando entrò portò dietro quest'uomo quale testimone? Oggi tu sarai con me in paradiso. La comunione che noi otterriamo con Cristo, la grazia che noi otteniamo in Cristo, è molto più forte della momentanea, leggera afflizione. È un patto, è un legame che si stringe ed è più forte della morte. Sì, perché è scritto nella Bibbia che l'amore è più forte della morte. E quando il Signore varcò le porte d'eternità, non si spezzò né la promessa né la comunione, ma egli portò con sé quell'anima quale segno della sua vittoria eterna. Egli la presentò al cospetto del Padre, egli la presentò dinanzi a Dio. Qualche capitolo prima Gesù raccontò una parabola che tutti conosciamo, è la parabola del buon samaritano. Ricordate, vero? E se ricordate, nella parabola del buon samaritano parla di un tizio che venne colpito e picchiato da ladroni. E poi la parabola continua parlando del tizio picchiato dai ladroni che riceve aiuto da un buon samaritano. E il buon samaritano universalmente viene ritenuto un'immagine di Gesù. Ho l'impressione, forse è una mia considerazione del tutto personale, ma ho l'impressione che in quella parabola i ladroni erano rimasti in sospeso. Ma alla fine dello stesso Vangelo vedo che il buon samaritano ha curato l'uomo che fu picchiato, ma ha anche salvato i ladroni e i malfattori. Forse tu hai un conto in sospeso con Cristo. Il Signore stasera vuole operare anche nel tuo cuore. Il Signore stasera vuole operare anche dentro di te. Quanti di noi siamo nati di nuovo, siamo stati lavati con il sangue di Gesù e il nostro cuore è stato imbiancato. Quanti stasera, transitando in fede al cospetto del Signore Gesù, riceveranno grazia e porteranno questo segno indelebile dell'amore di Cristo Gesù? La debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ebbene, nessuno pensi che ci sia qualcosa che Cristo stasera non possa fare e che il Signore non possa compiere, la parola di Dio afferma esattamente il contrario. E allora, sorelle e fratelli, e allora amici, e allora depressi, e allora abbattuti, e allora peccatori, e allora refrattari all'Evangelo, e allora annoiati, e allora tutti noi, dinanzi alla forza del Salvatore, porteremo stasera a casa la traccia indelebile del suo sacrificio eterno o ritorneremo a casa così come siamo venuti, soli come quell'uomo, arrabbiati come quell'uomo, disperati come quel malfattore. Oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Dio voglia concederci stasera un assaggio del paradiso di Cristo Gesù. Signore, se la Tua debolezza è più forte degli uomini, come sarà la Tua forza? Signore, se sei stato vicino nel momento estremo a quel ladrone, se lo hai aiutato quando nessuno poteva aiutarlo, se lo hai legato a te e con te lo hai portato in gloria. Se questo tu hai fatto e lo hai fatto, stasera nulla ti è impossibile fra noi. Tu conosci, oh Signore, i motivi per i quali questi cari hanno chiesto la preghiera, e tu sai, oh Signore, per quale motivo tutto il nostro cuore sapre dinanzi a te. Tu sai, oh Dio, ma ben sapendo e conoscendo i segreti dell'anima nostra, Tuo Padre puoi intervenire alla Tua lode e alla Tua gloria. Oh Padre, facci sentire caldo, fermo, forte il legame della salvezza con il Tuo figliuolo Gesù. E se fra noi vi è qualche disperato, se fra noi, Signore, vi è qualcuno che ha ricevuto dagli uomini ormai una sentenza che è totale e definitiva, oh Signore, glorifica il Tuo nome. Apri una strada nel deserto, Signore. E tutti noi, oh Signore, Ti chiediamo, sì, legaci al Tuo figliuolo Gesù e facci gustare in questo momento, Signore, soltanto un attimo, ma facci gustare, oh Padre, la bellezza del Tuo paradiso. Fa che il nostro cuore t'ami di più, fa che la nostra vita sia totalmente per Te. Fa, oh Signore, che dinanzi alla scena che abbiamo letto possiamo glorificare il Tuo nome e continuare insieme a dire che Tu sei l'Idio vivente e vero, che Tu non lasci, che Tu non abbandoni e che Tu oggi continui a glorificare. Opera, Signore. Nel nome di Gesù Ti preghiamo, che è benedetto in eterno. Amén, gloria, 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 gloria. Amén, gloria, 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 gloria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.